Il 32esimo Memorial Dalla Chiesa, siamo con Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena. San Lazzaro di Savena è molto legata al Memorial Dalla Chiesa. Noi abbiamo il privilegio assoluto di ospitare questo luogo, il Gese, e proprio qua da 32 anni si celebra questo momento, che è un momento di festa ma anche di grande unità e di grande identità. Questo luogo è un momento identitario, il Memorial è un momento identitario molto importante per tutta la comunità e soprattutto per chi lavora nella giustizia, per chi alla giustizia crede e dedica la vita. E quindi credo che sia un valore aggiunto straordinario. Poi c'è questa magia dei cavalli, delle gare, di tutte le forze dell'ordine che partecipano e quindi è proprio un momento magico che si svolge sempre a ridosso del Natale e che abbraccia la nostra comunità in modo veramente molto caloroso e speriamo che questa sia davvero proprio una semina di giustizia e di legalità che coinvolga tutti i giovani atleti e anche i ragazzi che qui intorno gravitano. Grazie, sindaco. Grazie a voi, grazie.